Oggi alcuni operai hanno riaperto il cantiere del teatro Auditorium di Arco presso l'ex sanatorio Quisisana per portare via attrezzature e materiali che erano della ditta Azzolini, assegnataria dei lavori e poi fallita. La firma del contratto tra la nuova impresa di costruzioni e il comune di Arco è infatti ormai vicina. L'iter burocratico sta rispettando le tempistiche annunciate da Betta, poco dopo essersi svincolato dall'impresa di costruzioni Azzolini. Dopo un lungo stop e tante preoccupazioni sembra che per il teatro Auditorium di Arco sia imminente il riavvio dei lavori.